Siamo in grado di introdurre una nuova macchina, la macchina PAS, che è capaz di moldare e controllare la qualità delle parti di produzione. Il sistema che stiamo presentando è capaz di produrre pezzi moldati in EPP e PAS, per estrarrele con la scuola di robot di 6-axis e per controllare la qualità delle parti finali. Dimensione, Wielding, Weight, con l'aide del controllo di visione, visione e controllo. Tutto è integrato con il controllo principale e i dati tra i tre o più subsistenti sono intercambiati all'interno delle parti. Non solo la macchina, PROMAS è capaz di proporzare soluzioni customi per le necessità dei clienti. E questo è possibile grazie alla alta integrazione dei prodotti B&R. La capacità di gestire la configurazione, la biblioteca di funzioni extensiva, la sicurezza di bus integrato, i linguaggi alti livelli C, C++ e ESC standard, il bus deterministico real-time, Powerlink, ci permette di sviluppare applicazioni complesse in un tempo relativamente corto e per customizzare la nostra macchina, mantenendo attenzione di ogni cambiamento. Tutti i prodotti hanno un B&C integrato che permette facilmente di assistenza remoto. L'ultimo, ma non l'ultimo, ogni anno B&R presenta nuove soluzioni che permette di ridurre i costi di sviluppo e il hardware con la stessa efficienza di potenza computazione. E noi, e i nostri clienti, profitiamo da queste innovazioni. Grazie!